Veterinario gratis, reddito di dignità, aboliremo l'Imu, l'Ici. Non ci credono più tanto. Non si trometta, bisogna usare le parole giuste per coinvolgere l'elettorato. Alzeremo le pensioni minime a 1000 euro. La tax al 23%? Al 15%. Al 15? So 20 anni che promettiamo le stesse cose e non le facciamo, ma vi prometto che quest'anno porca puttana, dannato cane a 5 stelle, fatti i cazzi tuoi! Arrovinato lui.